Una violenta esplosione avvenuta sull'autostrada Palermo-Trapani all'altezza dello svincolo di Capaci e gli investigatori stanno accertando se si tratti di un attentato ma sembra che vi siano pochissimi dubbi potrebbe essere ad una nota personalità che percorreva l'autostrada e il pensiero di tutti va naturalmente a Giovanni Falcone E' rimasto leggermente ferito ma ci sarebbero tre morti purtroppo sembra che i tre morti siano gli uomini della scorta del giudice Falcone E' arrivata in questo istante in redazione una notizia molto grave, vediamo di poterla controllare La questura di Palermo ha non reso noto che Giovanni Falcone è deceduto poco dopo in ricovero all'ospedale civico di Palermo Dottore Borsolini, un suo ricordo personale del dottor Falcone Dio può necessarily sapere cosa sta parlando Sì 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 Grazie a tutti.